Salve a tutti ragazzi, benvenuti e ben ritrovati sul mio canale. Nel video di quest'oggi vi mostrerò il nuovo mezzo. Direi che è inutile fare troppa suspense perché magari l'ho già spoilerato, non dico vunque, ma da qualche parte, magari anche semplicemente nell'anteprima, quindi eccolo qui. Piccolino, aspettate. Eccolo qui il nuovo piccolino. Si passa da un estremo all'altro, passo da una 124 Robert Spider piccolina che era grossa la metà, pesava un terzo di questo bestione, a un pick-up. Sapete, questa è una tipologia di vettura che ho sempre un po' desiderato, non ho neanche pensato notamente di acquistare a suo tempo perché comunque è estremamente proibitivi i prezzi. Infatti questo è usato, non l'ho comprato assolutamente nuovo. Per quanto la nuova versione sia fighissima, direi che questa va più che bene, anche perché non dico pari al nuovo, ma più o meno. Comunque ha poco più di 31.800 km, quindi insomma siamo sui 32.000 km, è stato tenuto veramente molto bene, è veramente fantastico. Adesso l'ho guidato, sono andato a prenderlo ad Albenga, sono tornato a casa, ho iniziato già a prendere le misure. Prendere le misure con questo mezzo sarà importante perché comunque non è più un'auto così compatta piccolina, si deve fare un po' più attenzione. O meglio, sembra effettivamente un autocarro da guidare perché vi dà l'impressione di essere un po' un trattore, però bello, piacevole la guida. Adesso magari ci facciamo anche un giretto insieme, velo solo farvelo vedere ancora un po' nei suoi esterni. Colorazione grigia, devo dire che sono contento, grigia forse mi piace addirittura più che il nero, soprattutto perché ci sono questi elementi in contrasto cromati, neri, che staccano un po' e non lo rendono troppo spento. Cerchioni da 18 pollici nella versione Wildtruck, quindi la versione Wildtruck è anche la versione più accessoriata di questo mezzo. Non starò qui a andare a enfatizzare, a fare una recensione perché alla fine ce ne sono, non credo sia necessario. Il proprietario precedente avrà cambiato il frontalino o anche quello originale, ma questo è decisamente più bello. Credo farò anche qualche piccolo aggiornamento così estetico su alcuni elementi senza spendere un capitale, magari ve li farò anche poi vedere in futuro. E niente, sono veramente molto felice. Ecco, innanzitutto perché ho acquistato questa macchina? Come avevo detto nel video da 124, ovviamente le esigenze cambiano, può essere utile poi non avere un'auto a due posti ma averne cinque. Ma per avere un'auto a cinque posti non c'era la necessità di comprare po' po' di roba che vedete qui davanti. Perché l'ho comprato? Beh, il pick up oltre, siamo italiani ragazzi. Guardiamoci in faccia, per quanto io abbia il sole in faccia e non veda nulla. Siamo italiani e abbiamo ancora un gusto dell'estetica, del bello e le macchine le compriamo erroneamente anche perché ci piacciono e a me questa piaceva dannatamente. Non era l'unico che ho guardato, ho guardato anche l'Isuzu, il D-MAX nel restyling del 2021, molto bello. Però alla fine poi ho preso anche quello che ho trovato, questo forse è anche quello a mio avviso il più bello che ci sia, sono tutte questioni personali. Quindi comunque come italiani compriamo anche le auto perché ci debba un piacere. Ma oltre a una questione puramente estetica, questo cassone che avete qui dietro adesso è chiuso, dovrei prendere le chiavi per aprirlo. Quindi possiamo semplicemente far così eventualmente e vedere un vanno nero, buio, tristissimo e un qualcosa che potrò sfruttare. Questo perché? Perché mio padre in quel d'imperio sta facendo dei lavori a casa e quindi può essere comodo poi portare del materiale, dei mobili. Certo non sono lì tutti i weekend ma quando sarà necessario magari ci farò un salto. Ma anche per quanto mi riguarda ho una vita che mi porta a lavorare in giardino, nell'agricoltura, nel mio tempo libero e risulta sicuramente comoda la possibilità di caricare. Poi in generale faccio comunque dei lavori che spesso e volentieri sento l'esigenza di avere un mezzo che mi dia una capacità di trasporto abbastanza elevata. E soprattutto quella prospettiva che dovrò fare dei lavori di sostituazione in casa potrebbe essere un mezzo che potrò effettivamente sfruttare. Non solamente compensare quello che poi in realtà non c'è bisogno di compensare. Perché una macchinona così ovviamente potreste pensare, l'hai conquistato per compensare delle lacune? La risposta è no, fortunatamente no. Un'altra motivazione che mi ha spinto ad acquistare questa macchina è il fatto che abbiamo, e con abbiamo intendo io e mia moglie, che anzi lei forse è ancora più propensa per quanto quello che sto per dirvi, l'intenzione è di prepararla un po' per renderla predisposta per campeggiare ovunque noi desideriamo andare, soprattutto in zone montane. Quindi la tenda andrà sopra la doppia cabina, è una cosa che monterò quando mi sarà necessario e quando non sarà necessario la potrò rimuovere, magari con dei verricelli nel garage così che sarà facilmente calabile sul mezzo, ancorabile e si può partire dove si vorrà. Non credo lo farò quest'anno perché comunque la tenda ha un costo abbastanza importante, magari il prossimo anno ci faremo questo regalo, per adesso faremo come al solito con lo zaino e le tende, però ecco una cosa che mi piacerebbe poi avere la macchina tutta predisposta, con tutte le comodità del caso, poter raggiungere dei bei luoghi qua dove vivo, ce ne sono veramente molti, per poter godersi delle belle serate in campeggio con tutti gli agi possibili. Sono anche molto contento di aver acquistato questo mezzo in particolare, proprio questa macchina nello specifico, perché? Perché diciamo quando mi stavo approcciando all'acquisto di un pick up ovviamente ho iniziato a guardarmi intorno e il mio punto di partenza era l'usato, l'usato perché comunque questa macchina nuova per curiosità ho detto faccia un salto in concessionario, vediamo quanto costa, costerebbe comprarlo nuovo nel suo nuovo allestimento, nel suo nuovo restyling, perché effettivamente ha una maschera davanti ancora più cattiva, dentro anche molto più moderno, ma poi sono cose che poi alla fine non servono, con lo schermo da trentordici pollici, scomodissimo per fare qualsiasi opzione, dovete andare in menu, sotto menu, scargate varie, l'analogico è comodo ragazzi, non ci serve avere digitale ovunque, touch, minchiate varie, in una macchina io voglio cliccare un bottone senza guardare, avere acceso, aumentato la temperatura, abbassato la temperatura, ho fatto quello che dovevo fare, non andare menu, tendina, sì, climatizzatore, ventole, sì, velocità, regola, imposta, no, a parte questo excursus, mi ero fatto fare così per conoscenza un preventivo del Ford Ranger, nella versione tra l'altro quella un po' meno ciccia, quella XLT, che non era la versione base base, ma più o meno, mi sembra fosse di 46.000 euro, sti cazzi, perché era ben 10.000 euro più di quanto non l'ho pagato poi alla fine questo, e soprattutto, visto che ormai la macchina voi non la potete comprare, voi la macchina la dovete finanziare, dovete farvi inculare, loro per incentivarti questo dicono, no, ma noi la macchina te la possiamo dare a 42.000 euro, questo piano finanziario, poi tu ti fai due conti, perché non sei uno sproveduto, e vedi che alla fine per comprare la macchina, perché io la macchina la voglio comprare, io non voglio avere una macchina che dopo 4 anni non è ancora mia, devo ancora pagare, e poi alla fine mi ritrovo a magari dover cambiare ogni 3-4 anni la macchina per queste forme di acquisto leasing, che non, boh, dal mio punto di vista, o come sono io, a me non convincono, non mi interessano. Alla fine, quella macchina, che così di listino costava 46.000 euro, con i finanziamenti la davi a pagare 55-56.000 euro, è ancora più inculata quando loro ti fanno vedere, no, ma c'è anche il piano che puoi scegliere, un piano di finanziamento molto lungo, dove per 5 anni è l'assistenza inclusa, veniva a costare 65-68.000 euro, ma io non lo so, non so chi le compra, infatti sono macchine che ovviamente puoi comprare anche una persona che ha una partita IVA, che poi si va a scaricare l'IVA, e quello che per me sono 48.000 euro i vati, per loro sono alla fine 38, non lo so, quello che viene. Va bene ragazzi, direi che ve la siete assorbiti già abbastanza dall'esterno, potremmo quasi quasi entrare, sapete io non sono ancora entrato dietro, e non lo farò adesso, non ho voglia, sono pigro, però dietro sembra che sia anche abbastanza spaziosa e comoda, poi essendo questo, se chiudo la portiera è meglio, essendo questo anche l'allestimento Wildtruck, io non per forza cercavo la versione più figa, ma questa è la versione più figa, ed era anche alla fine il miglior rapporto qualità-prezzo, è veramente bella dentro, sembra, è veramente curata, e rispetto alla macchina da cui passo a 124 ha una serie di cose in più, certo, c'ha un piccolo difetto, ma che alla fine per questo mezzo va bene, lo vedete, un cambio automatico, però lo sto guidando, devo dire, è comoda, una macchina come questa col cambio automatico, le fanno poi tutte così, c'è anche un motivo, va veramente bene, cambio a 10 rapporti, ah tra l'altro questo non l'ho detto prima, e la versione, sono contentissimo che l'ho trovato, cioè questa è proprio perfetta, come la volevo, cazzo, più fortunato di così non si poteva, ma c'è voluto che è tempo per trovarla, la versione da 170 CV, quindi il 2000 Turbo da 170 CV, sono contento perché la 210-213 non era il motore che mi interessava, anche perché se si riesce a consumare, poi insomma si può contenere un po' i consumi, tutta quella potenza, e poi il biturbo non mi interessava, poi anche penso costi di manutenzione più elevata, perfetta, anche qui il battitacco in alluminio targato Wildtruck, va bene, saliamo e guidiamo. Eccoci dunque a bordo, probabilmente essendo contro luce non vedrete nulla, quindi forse è meglio spostarsi, retrocamera al posteriore, devo dire anche molto comoda, ma noi andremo avanti in questo prato, oh sì, ho anche già tolto il frano a mano, bravo, e torneremo indietro. Certo, i margini di manovra sono molto, molto larghi, Eccoci dunque su strada, beh, ovviamente diciamo che passare da un'auto sportiva a questo, richiede un po' un cambio di mentalità, non ho più la pretesa di avere un'auto tanto reattiva, agile, veloce, ma si deve un po' adattare la propria guida, cosa che ho fatto immediatamente, quindi piede molto leggero, che ho sempre avuto in realtà, anche e soprattutto per un mezzo come questo, così da contenerne i consumi, per ora sono una media di 9 litri su 100 chilometri puliti puliti, che quindi rendono anche poi la gestione del mezzo a livello economico più che sopportabile, potrei anche togliere l'autoradio che va bene, poi per il resto come vi ho detto prima, è veramente un'auto estremamente comoda da guidare, certo nel momento in cui si deve fare delle manovre, un parcheggio e quant'altro, beh, ci vuole solamente magari, se devi farlo con qualche manovra in più, devi trovare lo spazio adatto per poterlo fare, ma per il resto, credo che nella vita di tutti i giorni, possa essere un'auto abbastanza gestibile, per quanto mi riguarda, ecco ovviamente, poi dipende anche dal contesto in cui vivete, potrebbe essere un'auto infernale per voi, sia chiaro. Cambio automatico, che poi alla fine vi abituate subito, sì, ho avuto un attimo dei momenti di defiance, quando l'ho ritirata, stavo tornando a casa, ho dovuto due volte fare una frenata un po' non d'emergenza, ma comunque fermarmi abbastanza repentinamente, beh, l'istinto di andare col piede sinistro sulla frizione è stato più forte di me, cosa ho trovato? Non la frizione ma il freno, ci ho piantato una bella frenata, che vabbè, dovevo fermarmi, ma non così in modo aggressivo, e vabbè, adesso ormai il piede sinistro, quando salgo, sta lì, fermo, non lo tocco, così evito, cioè lo incollo praticamente sulla poggia piede, però è comunque una guida abbastanza rilassante, l'avevo già provata con altre auto, come ho detto, su un mezzo così probabilmente è anche meglio. Tra l'altro lo vedete lì, se si vede sul display, dieci rapporti, non male. Va bene ragazzi, direi che per questo video è tutto, vi ho mostrato il nuovo mezzo, appunto questo bellissimo Ford Rangers, di cui sono molto contento, e credo che il tempo mi darà ragione in questa scelta, d'altronde, insomma, l'ho fatto con una certa consapevolezza, e beh, che dirvi, magari lasciate un bel like se vi fosse piaciuto questo video, e soprattutto fatemi sapere cosa pensate di questa, di questa macchina qua sotto nei commenti. Eccoci qui, in una manovra tipica di un camion, una semplice rotonda, e dovete sterzare, contro sterzare, che neanche vi immaginate. No, vabbè, in realtà non è così male, e noi ci becchiamo su questo canale, con i prossimi video, ovviamente, per non perderli, iscrivetevi, e credo che sì, uno dei prossimi potrebbe essere un piccolo, qualche piccolo aggiornamento al medno, cioè veramente, sono delle cagate estetiche, da poco conto, che potrebbero dargli una marcia in più, nonostante, secondo me, già così non ne abbia bisogno. Grazie. 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 Grazie.